buongiorno a tutti sono con roberto petrazzini responsabile del gruppo con vision che incontrerò tra poco roberto ci incontreremo tra poche ore io sono sarò a rimini per sintonie so che tu già sei lì e siamo pronti per partire con la manifestazione perché so che c'è una salezza di angelucci che è uno dei rivenditori che fanno parte del gruppo vision che ha due chicche anzi una principale interessante e so che ci sarai te a dimostrarla di che cosa si tratta assolutamente sì abbiamo partecipiamo in collaborazione con con marco angelucci a questo evento abbiamo una sala nel quale suoneranno due sistemi un sistema diciamo flagship composto dalla serie 500 di name e le focal maestro utopia e un secondo sistema più piccolo in termini di dimensione ma non meno interessante composto dal nuovo model 40 di marans e le polka audio legend l600 sì nuovo model 40 che sono tra i prodotti più interessanti in questo momento e che avremo in prova molto presto e che sarà sicuramente oggetto probabilmente di un paio di eventi ma di questo ne parleremo a tempo debito senti io so che sarai lì a fare tu a presentare il prodotto a far ascoltare musica con i due sistemi che cosa utilizzerai come come sorgenti cosa ci farei ascoltare ma quest'anno vista la collocazione all'interno di un ente fieristico e volendo evitare diciamo problematiche di tipo legate alla connessione utilizzeremo musica liquida presente sul nas e che alterneremo sui due sistemi in modo cadenzato ottimo certo mi sembra la soluzione la soluzione migliore quella più efficace io sarò lì da da stasera intorno alle sei dovrei arrivare e comincerò a sbirciare anche per preparare un reportage che si annuncia molto interessante quest'anno grazie roberto e a presto a tra poco grazie a te saluto a tutti